Inaugurazione dell'anno giudiziario tributario oggi per illustrare l'andamento del contenzioso nelle corti di giustizia tributaria d'Abruzzo. Interessante la relazione del neopresidente Maurizio Bloch, che è anche procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione. Il primo dato significativo è che l'arretrato è stato smaltito con un tasso del 105,8% per le due sezioni di appello dell'Aquila. Le pendenze sono ridotte oltre la misura del 10% dello scopo che ci si era prefissati. Permane la carenza di giudici e questo rimane il deficit più importante. In Abruzzo viaggiamo praticamente quasi sul corrente, non abbiamo arretrato e questo vale sia per il secondo grado e per la Corte d'Appello di secondo grado, nonché per i tribunali di primo grado. L'arretrato è stato praticamente quasi integralmente smaltito, le sopravvenienze sono nell'ordine di 800 procedimenti per quanto riguarda la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e di circa 2000 per quanto riguarda le corti di primo grado. Ma la buona notizia è che in corso una profonda trasformazione della giustizia e quella tributaria diventerà una giustizia a tutti gli effetti. Noi viviamo in questo momento una situazione di transizione perché la giurisdizione tributaria che era composta principalmente di giudici part time e che lavoravano per così dire a Cottimo si sta trasformando in una giurisdizione professionale costituita da magistrati che vengono reclutati attraverso un pubblico concorso e che sono magistrati togati, quindi la giustizia tributaria costituirà una giurisdizione professionale, una giurisdizione professionale che si accompagnerà alle altre quattro giurisdizioni che sono ordinarie alla militare, all'amministrativa e alla contabile. Circa i tempi della risposta di giustizia rilevati nelle corti della regione positivo il risultato del 2023 anche grazie al processo telematico che ha ridotto i tempi medi per quel che riguarda il contenzioso tributario nella corte di secondo grado definiti nel 2023 892 appelli nelle corti di primo grado definiti in totale 2003 appelli.